Martedì 8 giugno, Ariete, è sempre il primo segno, un Ariete che ha un po' la testa fra le nuvole, ma si sta bene fra le nuvole, però attenzione che poi bisogna riuscire a tornare a terra. Per il Toro, una giornata in cui è meglio fate da soli, non cercate aiuti perché gli angeli vogliono proprio che portate a compimento qualcosa, ma fatto da soli, soltanto per voi. Gemelli, pensieri negativi in questa giornata per i gemelli, cerchiamo di spazzarli via perché se no ci costruiamo i muri da soli. Per il Cancro, notizie positive in arrivo e ci sarà qualcosa da accogliere. Leone, gli angeli, uno in particolare Cassiel, vi dice che è un momento in cui il tempo potrebbe essere proprio tiranno, attenzione quindi come vi muovete. Vergine, abbiamo un segreto da custodire, delle voci che raccontano forse un po' troppo, lasciate sparlare e non curatevi di loro come diceva il poeta. Bilancia, momento dove sembra tutto fermo, ma c'è un angelo importante che sta vegliando su di voi, che è Michele, l'arcangelo Michele, quindi sembra tutto fermo. Effettivamente tutto va invece controllato. Ecco, date una rincontrollatina alle cose, alle situazioni per ripartire. Scorpione, scintille, ma anche stelle in amore, quindi vuol dire magari qualche contrasto da appianare con soluzioni alternative. Sagittario, si sviluppa qualcosa di nuovo sul lavoro specialmente, è un lumicino ma potrebbe poi diventare una luce. Capricorno, situazioni intriganti nuove in amore o qualcosa che si rinnova di un amore già collaudato, un nuovo patto. Per l'acquario, mettetevi in gioco, ma badate bene alla vostra esperienza, cioè quello che dovete mettere davanti a tutto è la vostra esperienza. E veniamo ai consigli degli angeli per i pesci, dove devono alleggerirsi, se vogliono veramente fare un salto di qualità a qualcosa, devono lasciarla là. Io vi ricordo che questo oroscopo è un podcast, quindi potete riascoltarlo quando volete, cercatelo sui social di Cluster FM, l'oroscopo del Forti, l'orosco podcast. Grazie. Grazie.